Per quanto riguarda il decreto legge che prevede lo sconto delle multe pagate entro un termine di pochi giorni, ne parliamo con il comandante dei Vigili Urbani di Carlentini, dove già ci sono stati i primi provvedimenti. Non stiamo facendo altro che dare corso al decreto legislativo che è in vigore dal 1 luglio 2013, dove si prevede uno sconto del 30% se l'utente della strada concilia la multa entro cinque giorni dalla notifica, non dalla contestazione, dalla notifica del verbale elevato. Ci sono stati diversi casi a Carlentini? Sì, è abbastanza, anche se ancora non tutti sanno questa cosa, ma un cinque o sei casi si sono verificati. Gli automobilisti come rispondono? Ancora non è, come si dice, diciamo abbastanza bene perché il 30% è una somma abbastanza considerevole per quanto riguarda lo sconto. È una legge quindi che potrebbe andare bene? Secondo noi sì, perché si eliminano allo stesso tempo anche lungaggini di notifiche, di ricorsi e di tutto quello che ne consegue appunto per la burocrazia riguardante il codice della strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti.